Il Cineteatro Comunale di Teramo chiuderà presto per lavori di ristrutturazione. L'amministrazione comunale sta valutando diverse soluzioni per garantire la continuità delle attività culturali nella città. Il progetto di rinnovamento del Cineteatro è stato finanziato con quasi 11 milioni di euro con fondi PNRR e tra meno di due settimane inizieranno le prime operazioni preliminari al cantiere che dovrebbe durare circa tre anni e restituire alla città un teatro moderno, funzionale e accessibile. Diverse sono le ipotesi su cui stiamo lavorando. Intanto è importante partire con la fase esecutiva dei lavori sul teatro, un intervento tra virgolette storico nel senso che il teatro finalmente si recupera grazie ai fondi del PNRR che abbiamo ottenuto e che il governo deve confermare e mantenere sul canale PNRR e restituire un nuovo teatro alla città capoluogo era un obiettivo che abbiamo colto e che oggi comincerà a vedere la luce ovviamente con la fase esecutiva. Contestualmente non possiamo interrompere l'attività di prosa, quella concertistica su cui comunque c'è una collaborazione già avviata nel corso di questi anni con l'università e quindi stiamo affrontando e valutando diverse soluzioni, diverse ipotesi con l'assessore Filipponi quindi attendiamo ancora qualche settimana per arrivare a compimento con le varie ipotesi. Tre sono le possibili alternative. Il Parco della Scienza, la Sala Polifunzionale della provincia e l'area retrostante il Tribunale. Sì di certo, non andremo su soluzioni diciamo così temporanee che poi non restino comunque come ipotesi strutturata sulla nostra città. Ecco quindi diverse ipotesi e sicuramente non ci sarà l'interruzione dell'attività teatrale sulla nostra città. La riqualificazione prevede anche l'acquisizione dei locali al piano terra occupati da una grande attività commerciale per il quale è in atto una causa legale tra il comune e il proprietario che dovrebbe concludersi entro fine mese. C'è un contenzioso in essere amministrativo, noi stiamo procedendo perché l'opera è un'opera fondamentale per la nostra città e nello stesso tempo continuiamo a dialogare appunto con il titolare dell'attività commerciale come abbiamo sempre fatto perché stiamo cercando anche di trovare delle soluzioni alternative e di dare anche il supporto dell'amministrazione per quanto possibile all'individuazione di spazi altri.